amici del vecchio nerd ma soprattutto amiche del vecchio nerd buonasera e benvenuti a questa nuova live del vostro canale streaming preferito questa sera buonasera Yamato buonasera professor Nelson godai capitano d'anno buonasera Emiliano buonasera a tutti buonasera e bentornati la voce è bassa mi dicono madonna mia non riesco a regolare mai sto microfono bene sto nuovo microfono invece di aiutarmi sta scaruban adesso vi sentite bene no no dico in chat in chat ragazzi mi sentite bene ok ok stava regolato basso il livello di ingresso del microfono ora è a posto perfetto 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 allora faccio entrare subito non ci perdiamo in chiacchiere eccoli qua benvenuti ragazzi e buonasera Akira e Dalastor grandi avversari questa sera nel combattimento tra l'originale e il pezzotto come dico sempre io non lo so se se siete d'accordo con me il pezzotto ha le sue cartucce da sparare sicuramente sicuramente avrà le sue cartucce da sparare ragazzi buonasera allora come state tutto bene tutto bene tutto bene l'importante ecco adesso stai bene non sei non sei non sei diventato le luigi sedicesimo eccolo qua allora questa sera argomento di anime classico una sfida veramente imperiosa non si sentono gli ospiti parlate un attimo ragazzi scusatemi no non mi sentono per quale motivo aspetto un attimo che adesso 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 vi dico io perché ok adesso si sentono parlate mi sentite è certo adesso sì fulmine di pegasus fulmine di pegasus ecco è arrivato il fulmine di pegasus samurai estinzione estinzione allora ragazzi queste due opere che sono arrivate diciamo in tempi piuttosto vicini per anni sono state contrapposte ma in realtà ognuno di loro ha una sua peculiarità molto interessante che non sempre e voglio dire le contrappone no dario come stai come stai caro dario questo quarto un grandissimo altra sera mi ha mandato una canzone che mi ha che mi ha riempito il cuore perché su un canale radio che stava sentendo in macchina dario mi ha mandato il video su instagram con supercar gattiger in versione disco non so ve la ricordate voi certo è un spettacolo negli anni 90 spaccava quella roba lì mi ricordo anche pinocchio mi ricordo anche un'altra canzone che forse era dal tanius qualcosa del genere che andava in discoteca pure forte il guy king quella del guy king quella era nata per andare in discoteca alla fine quindi tanta roba saluto a valiant saluto a capitano dan saluto a prof a yamato vi volevo solo ricordare angelo sprafico vi volevo ricordare ragazzi a godai che ci sta è appena uscito sul canale youtube che potete sicuramente andare a vedere con calma è uscito il nostro tributo alla un'opera straordinaria come dragon ball notato che lo state guardando in tanti ve lo metto anche in chat se dopo vi va di andarla a guardare perché secondo me è molto interessante e soprattutto è un video molto sentimentale fatto col cuore non so penso che l'abbiate visto perché ognuno di noi ha aperto il cuore per raccontarvi il suo dragon ball quindi è no ma questo qua è troppo alto ragazzi non sentire troppo alto l'audio non l'avete lo state dimostrando di apprezzarlo molto questo è una cosa veramente molto bella ok ragazzi chi è che vuole chi vuole iniziare a parlare dei cinque samurai e dei e dei cavali dello zodiaco io direi per la questione di anzianità di iniziare a parlare dei cavalieri no dalla sì allora buonasera allora i cavaliere dello zodiaco sent sent sei a forse da noi una delle opere anime più importanti nella storia dell'animazione giapponese in italia diciamo che se the gold re che è stato il battesimo del fuoco i cavaliere dello zodiaco sono state la cresma e bella questo è un bel paragone diciamo così allora che cos'è i cavaliere dello zodiaco in originale sensei a sensei a nasce come manga nel dicembre del 1985 ad opera di un autore di un diciamo di un mestieri ante però non nel senso brutto del termine di che si chiama masame kurumada l'opera devo tolgo un po di mito sul sull'opera è stata più che altro un'opera di commissione fu commissionata dalla bandai perché voleva qualcosa per poter vendere ai al pubblico più giovane in giappone i cavalieri avevano un target che era praticamente tra le scuole tra la scuola elementare e i primi anni della scuola media cioè tra i preadolescenti tra i 13 14 15 16 anni e e volevano qualcosa di alternativo ai modellini di mecca che stavano cominciando ad entrare in crisi e questa cosa portò alla a creare una serie ispirata alle costellazioni occidentali allo zodiaco occidentale la serie e inizia con un protagonista di cui prende il nome appunto 6 a che è il diciamo che non si chiama pegasus non si chiama pegasus si chiama ed è il cavaliere di bronzo di pegaso questo e si è addestrato in terra greca e per circa dieci anni viene mandato ad addestrarsi in terra greca con altri suoi amici e amici in varie parti del mondo e da questi cento che nel manga sono 100 figli di armanditule complimenti ad armanditule ragazzi armand la buttava che riuscì ad avere 100 figli con più o meno circa 99 donne differenti perché andromeda e fenix kiki e shun sono hanno la stessa madre questo però succede nel manga tutti i figli maschi a quanto sembra erano altri tempi e ne manda 100 ne tornero solo 10 proprio maschi maschi va beh lasciamo stare questo la dice anche lunga su quanto la serie fosse progressista la serie dura per 114 episodi divise in tre saghe la saga del santuario che a sua volta si può dividere con lo scontro contro i cavalieri con la guerra galattica lo scontro contro i cavalieri neri e fenix poi lo scontro contro i cavalieri d'argento il santuario la corsa attraverso le 12 case il filler ma molto apprezzato in occidente di asgard e poi la fine della serie con 14 episodi in di nettuno o poseidone contro i generali degli abissi a questo punto la serie anime si interrompe perché comincia da tutte le parti comincia ad avere scarsità di ascolti di ades uno dei capitoli più belli che però non ebbe una versione animata a tempi molto recenti recenti vent'anni in realtà 22 anni perché la serie di as di ades esce nel 2002 vabbè ma questa come si suol dire un'altra storia che diremo prima allora una serie nata per vendere praticamente questi questa è la versione vintage eccola qui v2 dei queste vintage vintage questo è proprio del periodo questo qui non è proprio del periodo questa è la v2 l'armatura della seconda serie e da spiegare per quale motivo nel manga l'armatura è simile a questa mentre nell'anime è qualcosa di molto diverso con la testa da cavallo eccetera il motivo è che lato ei volevano delle armature che fosse un po più coprenti in qualcosa che più ricordasse più un'armatura da guerriero mitologico greco e per questo chiese a shingua raki la serie e con si è di shingua raki anche se lui per creò soltanto il carac iniziale della serie e trattò ben pochi episodi a differenza dei quattro film che sono invece tutta opera sua e in pratica la serie finì nell 89 da noi arrivò negli anni 90 con uno stranissimo passaggio televisivo perché la prima parte veniva trasmessa da odio fino all'episodio delle della casa di leo si troncava a metà dello scontro della casa di leo e poi passava a italia 7 la cosa stranissima che per molto tempo abbiamo potuto vedere la serie così con passaggi molto orari della prima parte e passaggi e molto più frequenti su staglia 7 della seconda roba da veramente che oggi sarebbe da da manicomi allora dire la cosa ti interrompo solo un secondo che praticamente io ricordo distintamente che mi piacevano tanto arrivava questa casa di leo finiva con una sorta di cliffhanger perché se non ricordo male finisce con ioria che lancia su sacro leo e poi finisce non si capisce come va a finire e il giorno dopo tu immagini di thomas ragazzino che accende la tv su tele capriodeon a finalmente muoveremo che succede e sta un'altra volta e sta un'altra volta fa la guerra galattica e ci rimanevi malissimo no non si è mai saputo per quale non si è mai saputo per quale motivo i diritti degli episodi furono divisi in questa maniera anche perché il caso di doppiatori resta lo stesso la casa di doppiaggio resta la stessa non si è mai capito per quale ragione ci fu questa divisione poi più alla nel tempo negli anni 2000 la serie fu torno a casa mediaset perché la serie in origine fu acquistata da mediaset o fin invest e fu però all'epoca si chiamava ancora fin invest però la serie decretata che non era un qualcosa da poter mandare nelle emittenti delle reti ammiraglie allora fu praticamente sub affittata a italia 7 e come che cosa si può dire e poi lascio la parola ad akira la serie ebbe un discreto successo in giappone fino a un certo fino almeno a un certo punto fino alla seconda metà della serie di asgard poi però si interruppe con una caduta di con una caduta degli ascolti forse dovuta davvero all'arrivo al successo di dragon ball ma è una cosa che può succedere in giappone e a questo punto la serie venne trasmessa in varie parti del mondo in fu trasmessa in italia in francia e spagna in portogallo in tutta l'america latina e anche in cina insomma stranamente non fu trasmessa in grecia se non in tempi recenti cioè buona parte della serie si svolge in grecia però i greci non ne sanno niente ecco quanto turismo abbia attirato in grecia la serie dei cavalieri non è dato saperlo allora a parte gli scherzi finita questa serie volevo dire solo una cosa questa fotografia emblematica perché questa è la famosa scena dove il sacerdote dice chi vincerà l'armatura di pegasus pegasus o cassius ecco e questa è una cosa che ci ha sempre fatto ridere questa questa questo è un episodio è un immagine della primo episodio si riesce a capire che all'inizio la la serie era alquanto confusa nella trama come si può notare da queste immagini il gran sacerdote che doveva essere per forza ha una veste differente i colori capelli sono marroni mentre sappiamo che arles o gemini ha i capelli blu o neri amo la scena che lui aveva praticamente pegasus in mano per poi e viene un po dimenticata però succede una cosa stranissima in occidente l'occidente non dimentica la serie continua ad essere trasmessa è un enorme successo e qui in finisce si può dire un esposizione della dei cavalieri dello zodiaco e inizia il mito e qui mi fermo e lascio la parola ad oreste e chiedo scusa se mi sono dilungato e ora si parlerà dei dei yoiden samurai tupa cioè la leggenda delle armature dei cavalieri soldato perché anche là ci siamo andati a parare un po' cinque samurai ci siamo inventati completamente il titolo che non c'entro un po' no no samurai c'è perché in realtà io ho tradotto anche quello perché samurai è cavaliere e là già c'è il paraculaggio della situazione perché con l'arrivo di saint seia anche sunrise di si sa cosa va a fa soldi come avevano già fatto col mitico trader g7 da ed andrei dopo aver visto manzinger roba varia ma perché non ci facciamo la nostra serie di cavalieri diciamo di eroi in armatura all'epoca c'era un casino di roba in armatura ci scusa mi resta no 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 esatto gli eroi in armatura perché poi parliamoci chiaro siamo negli anni d'oro dei tokusatsu i yenshin yenshin metal tutto quello che riguarda proprio questi eroi che non hanno più bisogno di macchine ma sono stesso l'ora ad avere la potenza nell'ottantanove finalmente abbiamo tra l'ottantotto e l'ottantanove anzi abbiamo questa serie che non ha manca quello che c'è che è uscito da poco non è dedicato a questo questa serie nasce da sunrise come animazione ma c'è da dire scusami vorrei se faccio una piccola parentesi non su questo ma la sunrise in genere i prodotti sunrise sono quasi tutti senza manga perché dai tantrenon a manga e sono usciti delle versioni comic dopo voglio dire e anche altre opere della sunrise dal panius e tutto il resto non c'hanno non c'hanno non c'hanno la non c'hanno il manga corrispettivo a volte no 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 io questo ci tengo perché molti molti credono che ci sia questa cosa che il manga deve esserci per forza il manga prima di atriba visto anche ultimamente su certe opere che se li sono inventati loro i manga perciò ci tengo a precisare non c'è il ma il manga è una cosa che hanno fatto dopo ed è una cosa che meglio dimenticarsi comunque che cosa parla in fin dei conti per chi non conosce l'opera ci troviamo inizi anni 90 una città apparentemente simile a tokyo a un certo punto vediamo che usare vediamo che tutta questa questa città viene oscurata da delle nubi malefiche e in tutto questo c'è uno studioso di cimeli antichi che dice il male sta tornando sicuramente dobbiamo aspettarci l'arrivo di questi oggi oggi sto proprio knock out di queste diciamo di questa entità malefiche venendo dal regno del male io ve lo dico la versione diciamo italianizzata poi ci sono anche i nomi originali e che cosa che cosa succede a un certo tratto tutta la città perde completamente prima nebbia e poi perde completamente l'energia cioè non c'è più energia elettrica tutto al buio cominciano queste nebbie ad arrivare questa specie di demoni che sembrano samurai feudali in tutto ciò la gente c'è il panico gente che scompare a un certo punto e non si capisce tanto il perché scompare cioè non è perché arrivano i demoni scompare la gente rimangono tipo tre cristi in tutto in tutta la città a questo punto fa l'apparizione da lontano questo ragazzo con una tigre bianca che tutti quanti si spaventano quando lo vedono perché dicono questo che cavolo ci sta a fare qua nella sigla tigre bianca se non mi ricordo esatto fiamma bianca anche che si chiama si è in fin dei conti nei manoscritti che aveva trovato questo studioso c'era scritto che all'arrivo dei demoni sarebbe apparsa il ragazzo con la tigre bianca e in fin dei conti abbiamo conosciuto in italia come rio del fuoco eccola qua fiamma bianca tra l'altro molto bella le tigre bianche sono affascinanti proprio come si si allora tutto quanto diciamo che si svolge con l'arrivo anche con l'arrivo anche degli altri samurai perché i samurai sono cinque quelli labboni che si distinguono per gli elementi acqua luce ma terra fuoco e terra no è aria 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 mi sono dimenticato aria ecco cosa succede questa questo è tutto l'incipit di tutta la storia fulmine proprio perché la è proprio il fatto del bagliore della luce del fulmine perciò noi l'abbiamo tradotto in luce quella è la cosa anche perché si erano in fin dei conti erano nome di casate antiche giapponesi sì i nomi vengono da antichi samurai esatto antichi samurai e però diciamo che uno non è tanto un samurai quello là della terra prende nome da un generale cinese vabbè questi sono i piccoli dettagli che anche nei cavalieri hanno fatto queste cose che ci hanno messo i sedi zodiacali cinesi in mezzo perché non le avevano finiti possiamo dire però che questa è una serie coraggiosa perché forse la prima a parte diciamo quella lì del dello shogun Mitsuri mito è l'unica che affronta la storia antica del giappone utilizzando la storia antica del giappone gli altri sono sempre delle metafore no i robottoni sono metafore i cavalieri sono metafore e invece loro qui dicono no ma noi abbiamo i samurai usiamo i samurai e quindi usano proprio i samurai no e sì infatti è stata un'opera che viene svolta con il sistema di visione degli inferi e dell'altro mondo molto alla giapponese cioè che in fin dei conti l'altro mondo si trova sopra le nuvole e loro infatti i demoni si trovano in questo mondo che è fatto tipo di pavimento è fatto tutto quanto da nuvole è un po il concetto degli ioni no perché loro pensavano che i demoni fossero questi oni che vivevano sopra le nuvole proprio erano i produttori dei fulmini tra l'altro cioè i fulmini sembrava arrivassero proprio da da dai da questi giganteschi tamburi che suonavano sti uomini cornuti che sono anche poi utilizzati in lamù per dire lo stessa assonanza tra uomini cornuti e fulmine la troviamo anche lì e questo conferma la cosa che dicevi che che prendono a piene mani dalla dalla mitologia giapponese ecco sì anche ecco volevo parlare proprio della differenza i cavalieri hanno questa armatura che si trova all'interno di uno scrigno loro lo aprono e misticamente c'è questa questa trasformazione cioè sembra tipo puzzle cioè anzi precisamente bene la vestizione di un cavaliere avviene identica a come fai a inserire i pezzi sopra il giocattolo invece i samurai hanno anche la azzardato sulla parte mitologica perché quello che viene scambiato per molti uccidere che la chiamano la carta igienica che vola quelli sono i tomi i tomi che si usavano con delle scritte di incoraggiamento e erano proprio fasce che venivano messe sotto l'armatura del samurai e il fatto del richiamo al petalo che quando i pezzi si 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 distruggono escono questi petali e l'armatura si forma è sempre un riconoscimento al giappone e apprezzamente a il i primi samurai che di solito le battaglie le svolgevano all'inizio allo sbocciare dei ciliegi cioè è tutto una cosa diciamo veramente sul l'apprezzare quel periodo io sinceramente io ricordo con con grande allora per quanto non abbia mai amato questa serie perché io l'ho sempre considerata una sorta di plagio invece approfondendola bene non è neanche così però sai da ragazzo ti affezioni a una cosa l'altra la snobbi un po effettivamente le trasformazioni sono fighe si vede un po di vita civile di vita borghese dei cavalieri ecco la differenza perché il tuo si chiama saint seya e il mio si chiama samurai trooper perché a te è incentrata sui personaggi invece il fulcro di i cinque samurai sono le armature perché i personaggi non esistono sono un sempre sono loro sono il pupo con l'armatura addosso e questa cosa la vediamo andando sia avanti nella storia che ce lo spiega uno degli ultimi o avvi della serie perché la storia è basata sulle armature cioè questa viene raccontata circa a un quarto della serie questa cosa nei tempi antichi da circa penso mille anni c'è una grande battaglia con imperatore cattivissimo che non si voglia non per diritti non hanno potuto dire che erano bunaga però è lui alla fine come è fatto anche per la santa essere così sanguinario e toto ma si sta facendo vedere la mia collezione di mit dei cavalieri dello zodiaco quella è bella potete vedere i miei cavaliere perché questo perché ho fatto vedere questa foto perché una domanda mi sorge spontanea ma il merchandising di queste due serie ma quello dei cavalieri andò forte ma io non ma forte quello dei cinque samurai almeno da noi in italia io non lo ricordo c'era qualcosa è uscito però perché siamo nel 96 che scena dei cinque samurai con la giga giochi preziosi infatti c'era la mitica pubblicità cinque samurai oggi oggi d'acciaio stiamo già parlando che ero un bambino io quindi sono arrivati tardi giocattoli in italia cioè la serie è arrivata prima del giocattolo la fase inversa ma valiere andavano forte ecco ed è proprio per i nomi dei cavalieri riprendono nelle versioni italiana il nome dei il nome dei delle costellazioni perché nell'eventualità che dovevano andare a con un genitore dovesse andare a comprare il cavaliere ai ai ragazzi ai figli diventava difficile per loro ricordarsi per esempio che il nome 6a si riferiva a pegasus mentre dire direttamente era semplice poteva andare nel negozio di giocattoli voglio pegasus ma poi gli davano ma poi se vai nei giocattoli e chiedi pegasus non stai sbagliando perché lo vendevano con l'armatura di pegasus quindi sì sì però non era però nel cioè nell'edizione giapponese usciva con la scritta sent sei si usciva con la scritta seia se nel nell'originale ci fossero stati i nomi originali il genitore avrebbe potuto avere difficoltà questo nelle menti dei quelli che ragionavano sul marketing poteva avere insieme al marketing questo non la testa di quello che succede è una serie i cavalieri sono una serie destinata a vendere a vendere merchandising lo è sempre stata fin dalle origini cioè è un po come è la stessa cosa con i gundam è la stessa cosa con i robot di nagai si è passati dal robot tipo quello della come si chiamava oreste scusami tu che sei più informato sul modellismo quello la zinga z con l'aspetto squadrato il popi il popi si è passato dal popi fino al gx e poi alla versione la serie chogokin quella era proprio la serie chogokin della popi che poi fu acquisita da bandai di adesso è tutto quanto loro invece perché va ecco bandai proprio non so la popi non è che è fallita o ha cambiato nome diventata banda e cosa che sbagliano in tanti bandai era una divisione della bandai che è stata acquisita prima la popi si occupava dei pressofusi per la per a varie ditte poi è stata acquisita da bandai ed è diventato quello che oggi noi troviamo all'interno di bandai come robottoni cavalieri anche samurai adesso anche questo è allora che cosa succede succede che come ho detto la serie è in giappone si ferma nel 1989 114 episodi e quattro film uno delle ultime cose a uscire è il film l'ultima battaglia contro lucifero che riprende alcune idee di kurumada per quanto riguarda la serie di ades che come ho detto sembrava che tutto fosse finito se non fosse che in occidente la serie è continuata a essere vista e e questo ha portato a un certo punto i giapponesi si sono resi conto dell'incredibile di quanto i fan occidentali fossero legati a questo prodotto un al una diffusione a livello internazionale impressionante cioè ci si poteva fare dei soldi si racconta che ed una famosa fiera francese di nizza fu invitato shinguaraki e la toei animation e gli fu mostrato un trailer della serie di ades che era rimasta inedita da noi che era rimasta inedita come animazione i giapponesi videro questo trailer e si dice che si preoccuparono parecchio perché si preoccuparono del fatto che fossero i francesi a fare la serie di ades tornarono in patria e nel 2002 cioè quasi 20 anni dopo la fine della 12 anni dopo la fine della serie dei cavalieri dello zodiaco cominciò la produzione degli ovvi della serie di ades di arti santuario che porta un po al a uccidere i pochi cavalieri d'oro che erano rimasti a volte uccisi dagli stessi colleghi che erano tornati in vita perché dei cavalieri d'oro tornano in vita nella serie di ades e poi inferi e per ultimo e lisio che porta alla conclusione della serie o meglio portano alla conclusione della serie classica perché come è successo con star wars e con altre serie anche i cavalieri hanno l'universo espanso lucas perché hai fatto guardare questa cosa che succede in giappone continuano a capire che gli occidentali sono malati di questa serie una malattia che io condivido visto che questi sono i dvd di recente è arrivato i blu ray eccolo qua bello e all'inizio di questa malattia infinita videocassetta della granata press 1992 con la prima col primo film aspettate che lo metto così eccolo qua questo qui doppiaggio originale con le con i doppiatori storici invece noi non ce l'abbiamo questo problema l'hai amato ci ha fatto tutto il pacchetto completo una botta sole via anche se anche se un mit può costare anche 60 euro se siete fortunati visto che ne hanno fatti tanti ne trovate anche a 50 i mit classi samurai non c'entra in videocamera non c'entra in videocamera ogni samurai costa dai 130 a salire su un momento un momento c'è da spiegare questa cosa intanto stiamo parlando dei mit classici sono uscite le versioni exe perché ogni tot la bandai decide di farci in pratica sì in pratica no vendono pure in giappone vendono pure parecchio in giappone però sono il mercato occidentale tanto che in realtà i mit erano partiti con una versione piuttosto bruttina i primi mit erano delle v2 della serie di asgard per capirci ma erano piuttosto bruttini fatti male furono gli occidentali a lamentarsi della cosa e la bandai tornò sui suoi passi o meglio cominciò a farli meglio le versioni successive tanto che arriviamo alle versioni di alle versioni di asgard che sono davvero tra le tra i prodotti mit più perfetti poi poi uscirono lex che sono praticamente delle versioni ancora migliori più alte fatte meglio con più mani con più facce qualcosa di veramente fatto bene la mia versione dei cavalieri di bronzo con atena con la statua di atena elisabetto saori chido e sono con le versioni v3 del col corpo but è la testa v3 e il corpo v2 chi è chi è fan dei cavalieri mi sta capendo chi non lo è forse si sembra che sto parlando arabo però praticamente ho preso i corpi delle versioni di ades e li ho messo sopra l'armatura delle versioni di asgard per capirci diciamo che hai fatto stile i samurai hanno creato i cavalieri loro sono diventati il pezzotto e tu hai fatto il pezzotto del pezzotto praticamente è stato così ecco ragazzi cercavo foto dei cavalieri scusatemi mi è venuta questa foto davanti che non c'entra niente quei cavalieri però me la volevo far vedere perché mi stavo strozzando per ridere allora scusate un attimo godai effettivamente non è sbagliata come cosa godai godai anch'io ho la clot di atena con l'armatura di ades e il modellino che vedi sempre nelle mie immagini della mia collezione è la il corpo di atena il vestito viene da una versione tarocca cinese e allora che cosa succede succede che mentre c'è questo enorme finisce la serie di ades ma non finiscono i le cose dei cavalieri dello zodiaco esce fuori vari manga esce il prequel cavaliere dello zodiaco con los canvas o senza i a los canvas dove della tms cioè non più la tua e animation ma la casa di lupin per capirci è un prequel questo in animazione è un prequel è la guerra saga che si svolge nel 1600 dove tra gli altri ci sono come personaggi protagonisti c'è un forte ci sono si cavaliere di bronzo non tutti quelli che ci ricordiamo in realtà perché c'è soltanto pegasus telma il cavaliere di pegasus precedente il nome più utilizzato in italia temma volevo aggiungere una cosa lost canvas non è completato neanche in giappone no non è completo in giappone è stato interrotto e basta né in italia né in giappone si hanno fatto la seconda stagione però manco l'hanno completato si non è stata completata se si arriva fino a un certo punto poi viene tagliata non si forse per poco ascolti non ci sa e è una serie che praticamente come ho detto i cavaliere di bronzo sono iniziati gli imitatori ragazzi adesso c'è uscito questo profilo come ti suol dire come i samurai sono il pezzotto dei cavaliere mi sono tagliato i capelli e sono perso 20 kg vedi la come i samurai sono il pezzotto dei cavaliere ognuno è il suo pezzotto questo per dire che ognuno è il suo pezzotto va bene così allora che succede succede che cominciano ad uscire in manga spin off oltre all'host canvas che è un prequel non ufficiale in realtà e che poi avrà un suo in un certo senso un'altra su un altro spin off cioè uno spin off dello spin off perché ci sarà l'host canvas the guardian che parla dei cavalieri d'oro con episodi separati poi ci sarà il seguito il vero seguito dei cavalieri dello zodiaco versione manga nest dimension che dio ce ne scansi e liberi e poi ci sarà naturalmente altri manga episodio g che tratta una storia sempre prequel con protagonisti cavaliere d'oro e più sono rendesi tutto fabbrodo passa che ci sono i cavalieri ecco principalmente i cavalieri d'oro perché in giappone sono più amati cavaliere d'oro dei cinque di bronzo devo rispondere un attimo alla chat perché ci tengo ci tengo allora per la situazione btx vi state sbagliando alla grande non sono né un pezzotto né non esistono i btx hanno avuto una pessima pessimo anzi un pessimo adattamento italiano ma se riuscite a procurarvi il manga e ve lo leggete sappiate che btx la c'è il vero kurumada che kurumada la c'ha dato l'anima diciamo ogni tanto ha copiato ara su alcuni aspetti allora è un bell'opera diciamo una cosa di btx btx è quel allora con btx sfrutta per lo più l'idea dei totem dei cavalieri i totem dei cavalieri erano inanimati invece i totem dei btx sono delle vere e proprie creature che combattono sono degli esseri meccanici dovete sapere che all'origine dei cavalieri si era molto discusso se fare delle armature come qualcosa di ispirato alla mitologia occidentale o fare qualcosa di più simile ad armature tecnologiche cioè a qualcosa che ricordasse più il tokusatsu già più tecnologico le provate che cavaliere d'acciaio come si chiamavano come elevato da bocca proprio quello volevo dire il pezzotto del pezzotto i cavaliere d'acciaio cavaliere d'acciaio che erano molto apprezzati anche se a un certo punto vengono completamente dimenticati dai bambini dell'asilo tanto che ne hanno venduti lì in giappone i vintage le prime versioni dei cavaliere d'acciaio vennevano venduti per lo più ai bambini dell'asilo mentre tutti gli altri anche i cavalieri d'oro ebbero un successo non indifferente che poi volevo dire l'ultima proprio piccola i btx noi non riusciamo ad apprezzare perché noi non abbiamo avuto le serie famose serie brave che nascono con gaugai gar cioè dei robot senzienti perché btx è la versione senza robottone di un essere meccanico senziente che veramente ha fatto hanno fatto in giappone hanno fatto la storia infatti e sono sono molto apprezzati per questa cosa qua e adesso lo stiamo rivedendo con brevi vanna tanto per dire di quanto questa serie anche dopo decenni continua ad avere un successo non indifferente sarà il fatto che continuano ad uscire manga dei cavalieri dello zodiaco e tra questi di recente sta uscendo dei rise of poseidon che è una serie spin off sempre dei cavalieri dello zodiaco che serie manga ancora da nostra da noi inedita che riprende in generale degli abissi approfondisce la cosa perché mentre i cavalieri i cavalieri di bronzo sono ancora nella del subito dopo la bella per subito dopo che sconfiggono che sconfiggono ades che succede sulla terra succede che sta arrivando l'attacco di nemesis nemesis la dea della vendetta sta attaccando la terra ades si accorge della cosa pure se è morto in realtà nei cavalieri dello zodiaco non si può uccidere una divinità si può soltanto sconfiggere il suo corpo fisico ma l'anima resta sempre anche da noi noi la facciamo a pezzi e ne facciamo nove armature ecco anche con i cavalieri si succede con i samurai succede questo che succede e allora visto che la terra non ha protezione non hai sent di atena a poterlo a difendere ades chiama il fratello poseidone e gli dice vedi che sta per arrivare l'attacco di questa di nemesis bisogna difendere la terra perché lei ce l'ha con gli umani perché hanno ucciso mete e riporta in riporta in vita i generali degli abissi tra cui anche canon di gemini e adesso c'è la storia dove si approfondiscono le cose dei personaggi dei generali degli abissi forse tra un po ci sarà pure una versione anime ancora non si sa e e fra le altre cose è successa anche una cosa molto strana perché tra le varie opere che stanno uscendo dei cavalieri dello zodiaco e sta uscendo un fumetto francese dedicato ai cavaliere della stessa casa editrice che ha fatto uscire prima arlock e poi goldrake sono saranno cinque volumi ogni volume è dedicato a un sent il nemico e cronos e la serie si incastra all'interno dei della serie sclassica ora che altro si può dire di questa serie che praticamente paragonabile veramente a star wars e ci sono è addirittura uscita una versione a femminile perché i cavalieri in origine erano quasi tutti al maschile e abbiamo sentita show che è praticamente una serie dove tutti tutte le protagoniste sono delle ragazze delle sacerdotesse di atena sacerdotesse che tenete presente grazie valiant e siete presente che sono senza la maschera stavolta e servono praticamente per dare quello che i cavalieri non hanno mai avuto una versione al femminile cioè un delle protagoniste al femminile diciamo che in tutto questo sta uscendo anche una versione nuova un reboot remake della serie classica fatta prima da netflix e poi adesso da cancel all ad aprile uscirà la terza parte la fine del santuario si spera sia la fine del santuario intanto stanno uscendo nuovi videogiochi si sta parlando della data e finalmente dello zeus cutter che dovrebbe essere la fine della la fine forse del manga che solo lo sa tra due anni si festeggerà il quarantesimo anniversario perché ci saranno nuovi soldi da spendere vedere al sì nel dicembre del 2025 saranno saranno 40 anni di cavaliere dell'ottotiaco è uscito un live abbastanza discutibile uscito in film in gg abbastanza discutibile insomma e ora lascio di nuovo la parola d'oreste scusami ma purtroppo il purtroppo samurai no giorgio trick ha messo in mezzo qualcosa che quei samurai è bello pensare perché prima come abbiamo detto ci sono nove armature dico perché non potevano fare dieci no in realtà la decima c'è ed è quella dell'imperatore splendente e non è altro che la versione negativa della famosa armatura bianca che cos'è l'armatura bianca modo mi renderanno tutti dovete sapere che a un certo punto della serie tutte le armature della parte si uniscono e diventano un'unica armatura che viene usata da rio che è l'armatura bianca questa armatura è veramente epica a livello dell'anime cioè è quella fusione dei sentimenti di tutti quanti assieme della purificazione tra virgolette delle tutte e nove le armature che fanno parte del corpo di arago di arago non ho detto bene quindi che cosa succede nell'u avvi ci fanno capire una cosa però e nello stesso momento esiste la fusione di queste armature al negativo e vengono usate da questo dio che quando tu lo lo trovano mi sembra in africa non ricordo precisamente se in africa in africa mi ricordavo bene allora e tutti quanti dicono beh questo non tiene né testa né coda questo lo sai quando lo facciamo pure tipo quando i cavalieri ecco ogni tanto io ci meno la botta si trovano davanti sembra a o a gemini oppure a poseidone o a pullo ad e non si cagano un poco sotto si fanno un po di attenzione agli altri non si menano diretti con la proprio con la cragnata diretta loro pure vanno contro a questo demone e questo a questo cavaliere ma le prendono di santa ragione senza che manco lui usi l'armatura solamente con questo famoso boomerang che poi dicono e ma in africa esiste il buzzi in africa esiste una sottospecie di boomerang enorme ed è realmente stato utilizzato non è che è una cosa tipica dell'australia volevo dare un attimo ragazzi una notizia fuori fuori contesto però per le persone che stanno seguendo sicuramente saranno contenti allora aspettate un attimo aspettate forse avrete letto la notizia sta per uscire il nuovo libro di marco pelliteri si 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 il libro si intitola bravissimo giorgio è proprio quello la nel boomerang quello la dell'ammazzate meni di lui ascia un po più piccolino però si è col drake dalla a alla u di marco pelliteri credo che sia il momento giusto per far uscire un altro libro su su goldrake poi da lui che ha studiato tanto l'argomento e che tante cose ci ha fatto scoprire ma la notizia qual è marco verrà a presentarlo qua da me ci stiamo sentendo per poter organizzare questa presentazione è ovviamente me lo manderà io me lo leggo così in modo da essere preparato per fare un bell'incontro con lui che è veramente uno studioso di altissimo livello di questi argomenti mi fa molto 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 piacere condividere con lui questa questa passione insomma e poterne parlare parlare insieme il buon il buon dalla mi ha mandato della roba per dire di quanto i cavalieri influence abbiano influenzato anche la cultura pop in alcuni casi anche molto alla lontana che i cavalieri siano negli stati uniti sono usciti solo di recente ecco qua potete vedere lo zeus di liam mison in scontro nel remake scontro di titani il regista era francese ed è da adolescente ha visto i cavalieri dello zodiaco se voi notate l'armatura questa praticamente è è una un'armatura di un cavaliere d'oro messa sopra a liam miso ora io non voglio dire curumada pensaci perché uno zeus così va fatto qui invece abbiamo la serie il film immortals dove potete notare anche qui che le armature sono ispirate fortemente pure queste ai cavalieri dello ai cavalieri d'oro ai cavalieri dello zodiaco queste sono pure diciamo queste erano le armature che dovevano essere in origine prima di andare in chiusura volevo chiedervi alcune cose ma crossover non ce ne sono mai stati giusto non sono mai stati vincerebbe la domanda solita che faccio sempre che poco probabilmente non ha risposta allora crossover diretti allora crossover diretti non ce ne sono stati però si può dire che la caratterizzazione dei cinque samurai riprende moltissimo la caratterizzazione dei cavalieri cioè il solo tutte e due ispirati ai supersetai ai gruppi di eroi delle serie live abbiamo il l'eroe l'anti eroe l'amicone il bambino e la ragazza nel caso dei cavalieri l'amicone è un po robusto diciamo sì l'amicone un po robusto diciamo che l'eroe c'è il l'amicone e sirio e il bambino e cristal o aioia la ragazza mi dispiace di show il povero show andromeda e l'anti eroe è fenix prima domandavano perché a dario ci aveva domandato il perché ha le protuberanze davanti all'armatura d'andromeda è normale da una parte perché quella è la raffigurazione della 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 regina andromeda vicino allo scoglio le linguine da sotto interessante perché andromeda a una cosa perché andromeda alle catene la risposta è molto semplice kurumada vide un'immagine di un vecchio di una vecchia raffigurazione antica del settecento della costellazione di andromeda e la prima e la principessa andromeda era raffigurata con delle catene ai polsi a quel punto penso di dotare andromeda delle delle catene ecco per quale motivo andromeda alle catene per questa ragione qui naturalmente perché era legata alla era legata allo scoglio perché doveva essere sacrificata al mostro e mandato da poseidoro nella mitologia perché è il mostro perché la la sua sua madre cassiopea aveva usato dire che era più bella delle idee e questa superbia di cassiopea fu punita col sacrificio con la richiesta del sacrificio della figlia perché sennò avrebbe distrutto il regno della avrebbe distrutto il regno sarebbe stato distrutto il regno ecco un po la mitologia vi volevo dire che non so che voglio dire liberate il kraken praticamente la la il personaggio di fenix somiglia tantissimo a il condor dei gatchman cioè quel personaggio un po scuro che torna anche lui un paio di volte dalla morte è ricorrente questa questa figura all'interno di questi racconti è sempre molto ricorrente in effetti io suppongo che sia una copia proprio perché c'è con sia il condor che fenix sono i miei preferiti quindi voglio dire tra l'altro il condor giù il condor è pure italiano per metà quindi voglio dire va benissimo ci sono anche cavalieri italiani eh cioè non per dire i cavalieri vengono da tutte le parti del mondo però esistono due cavalieri che sono italiani c'è una pittura alla regione tre potere della pizza allora cancer death mask e siciliano tisifone è italiana e ora il terzo cavaliere chi è ma temma a ma temma italiano sì sì tema italiano e però se ci vogliamo mettere anche manigould è italiano anche manigould anche manigould anche manigould ci sono parecchi personaggi italiani in los canvas manigould sarebbe il cancer di in los canvas no? sì 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 ok mi ricordavo e non solo ma non è soltanto anche athena in los canvas italiana e ades è italiano cioè tutti e tre i personaggi protagonisti di los canvas vengono dall'italia dall'italia del 1600 ha detto il capitano e il capitano dan colpo della mozzarella di bufala no sembra infatti andrà caricavano il latte sembrerebbe sembrerebbe non vorrei essere ma sembrerebbe la sicilia dove ci sia la sicilia perché fa parte della magna grecia in effetti capito poi mi diceva mi diceva valiant che sfortunatamente non è italiano albafica per ovvi ragioni diciamo ecco vabbè albafica è il cavaliere di fish o di fish il traghettatore degli inferi pure italiano mi dice giorgio dritto sì 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 nella serie di ades caronte italiano sì è vero è italiano e però a quanto pare allora c'è un'altra cosa che è molto italiana nella serie di cavaliere dello zodiaco è molto italiana se vedete all'inizio della serie c'è la guerra galattica dove si svolge la guerra galattica si svolge in una ricostruzione di nuova luxor del colosseo la cosa strana è che il colosseo curumada informati meglio e come si è come adesso cioè come è rimasto ma non è non l'ha ricostruito com'era ai tempi dell'impero romano era è rotto praticamente il colosseo della guerra galattica è rotto ecco una cosa interessante sempre della guerra galattica e perché si combattono pegasus e lo scontro più bello è quello tra pegasus e sirio tra seia e si per quale motivo si combattono e il combattimento si ritrova anche in btx perché in opposizione il drago è opposto al kirin il kirin è una via di mezzo tra un drago e un cavallalato per la cina sono i segni i mostri dei segni cardinali e il drago è a est e il kirin è a ovest se non ricordo male corriggetemi il kirin per per i neofiti e btx praticamente sì ecco perché neanche in btx poi c'è un'altra serie importante che è stata animata dopo che è sempre importante nel che è co giro dei fuma co giro del vento è un manga da cui kurumada ha preso l'aspetto di buona parte dei cavalieri perché kurumada tratta i cavalieri tratta i suoi personaggi come praticamente li riprende di continuo li ridisegna di di continuo sempre gli stessi personaggi per questo in co giro vedrete di nuovo sempre in btx ripetete sempre gli stessi personaggi nella serie di box ripetete sempre gli stessi personaggi eccetera eccetera c'è da dire una cosa sulla serie della box ring no kagero cioè se non c'era quello i cavalieri non c'erano sì perché lui è di tutto nasce da ring no kagero poi nella serie anime abbiamo avuto altri spin off a parte saita show c'è anche solo gold serie dei cavalieri d'oro tornati in vita che combattono ad asgard poi andrea poi lo guardo che è stato doppiato di recente su anime generation sul giudizio cagero no kagero sul giudizio di questa serie non lo so lasciamo non lo so non mi dilungo più di tanto che dire volete sapere qual è il più grande collezionista di di gadget dei cavalieri dello zodiaco è un brasiliano da guinness dei primati c'è il è un brasiliano che addirittura alle armature d'oro in scala 1 a 1 e se volete sapere invece qual è il più grande monumento dedicato ai cavalieri dello zodiaco c'è un affresco di quasi 30 metri di lunghezza dedicato proprio ai cavalieri si dovrebbe essere in città del messico una cosa che riprende in messico sono andati forti in tutta l'america latina sono andati forti i cavalieri thomas per diffu allora non me ne voglio il compianto akira toria ma per diffusione e per numero di opere successive e per successo duraturo credo che non perché non per passaggio da una generazione all'altra però i cavaliere senza cavalieri non avremmo visto tra con voi qui da noi e non propogliati poi non per dire il primo faccio vedere due cose due reperti archeologici primo manga dei cavalieri dello zodiaco della granata press primo numero prima opera tradotta non si apre non si apre a quello non si apre perché si sfacella si autodistrugge come messaggio di mission impossible e primo numero di magazine di sempre della granata press dossier cavaliere dello zodiaco praticamente qui vengo viene raccontata anche la storia di dei film ancora inediti una cosa davvero io addirittura presi il terzo film da una videocassetta francese altri tempi e il quarto film l'ho preso direttamente in giapponese come suol dire allora con la traduzione a senso perché praticamente che dire i cavalieri ecco i cavalieri sono per me quello che gold reich per e per thomas ricordate che anche a livello videoludico i cavalieri c'hanno una bella storia iniziano con la nintendo nel 1986 arrivano su me sul primo nintendo con un gioco di in stile rpg stile final fantasy dovremmo vedere per un seguito almeno sei anni che arriva soltanto su console portatili e poi direttamente su playstation 2 cioè pensate per quanti anni c'è stata la in silenzio poi grazie alla nascita di ade e quindi a un nuovo ritorno dei cavalieri abbiamo il primo sistema di ray tracing che chi è che massica un po di gaming e informatica conosce che il sistema delle luci è stato riutilizzato la per la prima volta dopo doom perché per dare la brillantezza e le luci giuste all'armature dei cavalieri d'oro ed è una cosa spettacolare pensare che quel gioco ci ha messo quattro anni a uscire perché l'importante che vedesse più più mitta possibile poi uscirono altri giochi perché praticamente uscirono giochi anche per la playstation 4 sodio al dream per playstation 4 attualmente siamo alla terza quarta versione di un gioco per cellulare o per invece devo dire anche la versione brutta di cinque samurai esiste solo una mera copia però che in italia ci abbiamo giocato chiaro che è stato bazzicante di di sale giochi che sarebbe sengoku sengoku e i cinque samurai non ufficiale e qualcuno dice se c'è una storia dei samurai ambientata nel periodo sengoku sì l'ultimo avvi è ambientata proprio in quel periodo e la andiamo a scoprire la realtà e tutto quello che non è non è proprio sengoku vabbè scusate diciamo periodo medievale periodo diciamo periodo edo siamo dalle parti dell'arrivo dei dei portoghesi cioè per capirci siamo nell'epoca shogun per capirci diciamo che quello avvide i carri mi sia stato detto sengoku per dire medioevale perché molti usano l'epoca sengoku per definire il me l'epoca medievale dove ci sono realmente i samurai sì ci è esistito e quello in fin dei conti è la che capiamo la realtà cioè tutto quello che abbiamo visto nell'anime è un'illusione un semplice sogno delle armature i personaggi rio timo scido non esistono sono involucri che servono per reggere le armature e a quel punto diventano realmente umani perché riescono a purificare finalmente le armature infatti le armature diventano proprio come delle vere armature che dell'epoca e si trasformano e dalla nascono veramente i personaggi dalla diventano uomini reale non sono più spiriti che governano le armature questa è una cosa che nella serie non ve la spiegano ma medioevo aspettate un attimo è il medioevo giapponese quando si parla di medioevo non è il medioevo nostro cioè si definisce medioevo giapponese quel periodo lì medievale cioè con con la i feudatari la divisione i vassali valvassori cioè che avevano un sistema di organizzazione sociale e statale simile a quella che funzionava da noi nel medioevo non è coeva la cosa il periodo medievale nostro viene un bel po prima rispetto a quello dei dei giapponesi e si vede insomma quando arrivano gli europei in giappone trovano una società che per certi versi è molto arretrata rispetto a quella dell'europa che già si affacciava in un certo modo a esplorazione rivoluzione industriale visione tecnologica differente invece quando arrivano lì lo vediamo pure in quel telefilm trovano una società sostanzialmente filma granitica conservatrice che che non aveva bisogno di niente perché per loro stavano benissimo così e senza il contatto diretto con gli europei probabilmente il giappone non sarebbe arrivato a quello che oggi insomma il salto gliel'abbiamo la nostra contaminazione in un certo modo gli ha fatto fare pure il salto questo merito ce lo dobbiamo dare sì detto questo ragazzi andiamo in chiusura perché voglio rispondere giusto a giorgio giorgio e message sono gli ultimi o a b sono proprio in ultima saga dell'o a b è quello che mi ha fatto rivalutare la serie cioè dove voleva andare a parare la sunrise con questa serie sono molto onirici molto particolari c'è qualcosa di simile nei cavalieri che è un film adesso considerato apocrifo che la porta dei pari della porta del paradiso detto così senza i overture che praticamente è il primo prodotto post ades dove si racconta che cosa è successo a seia a pegasus perché il personaggio di pegasus negli anni ha subito un grosso cambiamento nella serie classica pegasus muore muore infilzato dalla spada di ades negli anni che cosa è successo la cosa per far continuare la serie e far rimanere la serie per farla continuare hanno detto che seia si è stato ferito dalla spada di ades ma è stato maledetto non può usare più il suo cosmo e viene ridotto come un vegetale sulla sedia a rotelle però naturalmente naturalmente il nostro eroe torna in tornerà in vita e tornerà questo non vero perché esiste anche una serie sequel dei cavaliere dello zodiaco con una nuova generazione si potrebbe dire senseia nest 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 generation con sensei a omega dove ci sono gli eredi di questi dei cavalieri di bronzo ci sono nuovi cavalieri d'oro alcuni sono legati ai vecchi cavalieri tornano i bronze vecchi tornano i cavalieri d'acciaio c'è una nuova è una serie molto bella non vi aspettate qualcosa di simile cavaliere si cerca di fare qualcosa di completamente diverso è molto interessante peccato che la prima parte a delle tutine imbarazzanti e perché si erano dimenticati come si facevano le armature però la seconda serie è molto più bella va vista la serie di sensi a omega è molto interessante diciamo che senza i stai cavaliere dello zodiaco come goldrex come grandai zero sta al prodotto originale di alla serie vecchia di goldrex ce ne andiamo a salutare il ride var la luna che prima è venuta da noi l'altra volta venire da noi restitiamo il favore facendo un piccolo ride a lei io voglio ringraziare oreste akira gaming 85 dalastor e il mitico filippo per questa presenza competenza e questo straordinario racconto che vi ha tenuti incollati alle sedie questa sera ragazzi 9 e mezza chiacchiere robottoni la prima ora chiacchiereremo di robottoni di alcune novità forse uscite su goldrex speriamo bene e poi la seconda parte ci sarà una cosa molto particolare non so se la faremo il team nerd storm che gioca in un gioco cooperativo online cioè io ercolanio faremo i danni e se ci volete seguire perché giocheremo questo gioco nuovo che forse oreste conosce che si chiama è una specie di starship troopers vabbè sta finito dobbiamo fare il ride poi poi comunque fate un salto stasera veniteci a vedere 9 e mezza ancora grazie vive i cavalieri viva i cinque samurai io ci aggiungo anche viva legend of dragoon che è un gioco ispirato a tutte e due queste opere molto molto belle ed è uno dei miei preferiti ciao a tutti al lunedì prossimo buonasera grazie a tutti